Una situazione che in tutta l'Ulse Euganea è di vera emergenza proprio per la pediatria? Direi che in emergenza tutto il sistema paese per la carenza di specialisti. Noi riceviamo richieste da altre regioni per fornire l'erolo anestesisti o friuli. L'ultima in ordine di tempo è Friuli che ci chiede gli anestesisti. Allora non è un problema solo dell'Ulse Euganea. In Euganea mancano 140 specialisti, di cui mancano 19 pediatri su una dotazione organica di 38. Ma il problema riguarda gli anestesisti, i medici di pronto soccorso. Si stanno cercando e adottando soluzioni strutturali. È chiaro che in questa fase noi dobbiamo traghettare il sistema, mettere in garanzia, mettere in sicurezza la salute dei cittadini garantendo i servizi con soluzioni che sono soluzioni temporanee, transitorie e modelli che assicurano la sicurezza e la presa in carico dei pazienti. Per quanto riguarda invece l'emergenza complessiva, come vi state muovendo? Sappiamo che a mese di agosto arrivano le cooperative, un po' in tutto il Veneto, anche a Padova che ha fatto molto scalpore. A Padova ha fatto molto scalpore, ma dico che il ricorso a queste forme di collaborazione non è nuovo perché mi risulta che buona parte delle ULS, ma non solo del Veneto, facciano ricorso a queste forme di collaborazione con cooperativi di medici. Le soluzioni, ripeto, sono soluzioni strutturali, la programmazione ha preso in seria considerazione una serie di soluzioni che riguardano i tavoli coi pediatri, libera scelta, è stato approvato l'avvio di un tavolo di concertazione, con la possibilità di partecipare ai concorsi specializzanti, con altre misure, l'aumento, l'incremento notevole delle borse di studia per gli specializzanti, la Regione Veneto ha più che raddoppiato la sua disponibilità, l'incremento delle borse di studia a livello nazionale. Sicuramente queste misure porteranno nel giro di qualche anno a una riorganizzazione strutturale del modello, non ultimo la sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro che era fermo da, mi pare, 12 anni. In questa fase è successo un po' di tutto qui a Campo San Piero, mezzo Veneto, anzi per non dire tutto è venuto in soccorso della pediatria, di giorno e di notte. Ha visto quanto, e questo è il grande valore aggiunto del sistema Veneto, cioè c'è stato un livello di collaborazione, di cooperazione con le altre ULS che pure in casa propria avendo qualche problema, perché ripeto la carenza di risorse non riguarda solo l'Eugania, eppure, hanno dato tutto quello che potevano dare, in particolare la ULS 3 di Vicenza, l'azienda ospedaliera di Verona, la ULS Pedemontana, solo che ovviamente in pieno periodo estivo questa disponibilità si è ridotta sempre più al lumicino, abbiamo dovuto ricorrere a una soluzione organizzativa che è il modello proposto e approvato dalla Giunta. Grazie. 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 Grazie.